Il senatore del PD Michele Fina lancia l'allarme sul super bonus. I cambiamenti alla normativa sul super bonus dal decreto legge aiuti quater per lui avranno un impatto catastrofico sul sistema economico e sociale. Il super bonus in Abruzzo ha prodotto numeri importanti ma al rischio ci sono tantissime imprese. A serio rischio quasi mille imprese in Abruzzo, 30.000 in Italia perché di fatto il super bonus è stato il terreno di uno scontro politico che non ha tenuto conto di un elemento essenziale anche quando c'è un cambio di governo e cioè che il rapporto tra lo Stato, il pubblico e il privato deve sempre essere leale e preciso. Non bisogna dettare le regole e poi cambiarle in corso d'opera. In questo caso si sta facendo proprio questo. Ci sono migliaia di imprese che hanno i cassetti fiscali pieni ma sono prive di liquidità perché non possono cedere il credito. Di questo si deve occupare lo Stato mentre invece Giorgetti ha dichiarato che non è un diritto e sostanzialmente non è un problema suo e Giorgia Meloni qualche ora fa proprio ha dichiarato che fa un appello alle banche ma lei non è un opinionista. Lei deve convocare il sistema bancario e capire come sbloccare questa situazione altrimenti falliranno non le imprese improvvisate che a fronte di una grande opportunità che pure ha generato un pezzo di economia importante il super bonus oltre che una grande operazione di efficientamento energetico degli edifici, di risparmio delle bollette. Ma insomma di fronte a tutto questo si è voluto appunto determinare uno scontro politico. Ripeto, altrimenti si sarebbe convocato il sistema bancario, il sistema delle imprese e si sarebbe trovato una soluzione. È quello che io chiedo anche con gli emendamenti che prorogano alcune scadenze che incredibilmente sono state fissate troppo a breve termine e che appunto tendono a ricostruire un rapporto di lealtà tra Stato e imprese. Negli emendamenti elaborati da FINA figurano l'ulteriore allungamento della proroga prevista al 31 marzo 2023 dal decreto al 30 giugno 2024 per gli edifici unifamiliari, l'annullamento del taglio dal 110 al 90% il mantenimento della misura come previsto sino al 31 dicembre 2023 o in subordine lo spostamento del termine del 25 novembre al 1 gennaio 2023 per la presentazione della delibera assembleare per continuare a beneficiare del bonus nell'entità attuale al 110%. La scadenza al 25 novembre per fine è troppo ravvicinata, impraticabile, getta nella confusione imprese e professionisti.